Musica! Buona la prima! La quinta no invece! Per la quinta non c'è niente da fare! La quinta no invece! La quinta no invece! La verissima sprint! Do 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 do! Domenica! Stasera abbiamo l'onore di ospitare nella nostra taverna il grande Nicolò Paganini! Eh grazie, grazie! Oggi sono qui per suonarmi l'occarina! Come l'occarina? Non è un violinista! Ah, è vero! Ma l'ero dimenticato! Il burlone! Eh, prego, prego! Allora suonerò per voi! Sì! Adesso, fate! Sì! Sì! No, no! Perché Paganini non ripete! Mi permetta, posso offrire le dolci? Eh, ci mancherebbe! Volonti, prendo questo qua, buono! Adesso ne prendo un altro! No, no, no! E come no, perché? Paganini non ripete! Vabbè, per questa volta faccio necessario! No, no! Quel che ha detto è detto! Volonti, per una frase che uno ha detto una volta, volonti, niente pasticcio! Eh, però la detta, mi dispiace, questo riporta a casa io che stassero gente a cena, arrivederci! Sapore! Signorina, dica qualcosa almeno lei, eh! Papere! Ah, papere! Continuiamo con i dolci! Vediamo se loro sono più golosi del gabibbo! Solitamente la torta non si manda giù così, però... Questo topolino è pieno di dolci! Gli ha presi tutti lui! Il taglio della torta! Dai, dai, brava! Brava, dai! Scherzetto! Era un palloncino ricoperto di cioccolato! Che crudeltà, però! Buono il lecca-lecca! Ma che fa? Ahia, i dentisti lo dicono da sempre che i dolci fanno male ai denti! Biciclette pericolose! Direte voi, sono gli alberi pericolosi, non le biciclette! Il mondo è fatto a scale! Sì, ma non si scendono così, eh! Piccoli brumotti... Crescono, se ce la fanno! Con la bici, attraverso le palumi! Anzi... Mi sembra... Dentro le palumi! Per la serie... Ma perché? Ma perché? Questa è una serie di grande impatto, eh! Io lo rivedrei! L'artista... È in cartellone! E vai! E vai! O la va... Ma la spacca! Questo spacca di brutto, io lo rivedrei! Guardate che mira! Colpito... E affondato! Signore e signori! Madame et messieurs! Sfrancissi! Madame et messieurs! Caputti l'inglese! Ladies and gentlemen! Sì, ho capito, ho capito! Sì, ho capito! Ladies and gentlemen! Pracenta, adesso che devi fare? Eh, adesso questo spettacolo di magia! Ma che magia? Canzone! Ti dico, uno spettacolo di canzoni! Di canzoni! Eh, italiani! Meno male che i presentatori! Sono io! Eh! Ho chiamato Uber tre ore fa! È arrivato! Ma guarda come veloce! Bravo! Sto compleanno è una noia pazzesca! Sì, non ne posso più! Mamma, non ne posso più! Oh, me so divertite di più accadere che in tutta la festa! Guardami, gattino bianco! Eh, fai vedere il musetto, bello! Te lo ho fatto vedere da amicino! Eccolo qua! Siamo proprio coordinati! E' un solo cintura nera per voi freghi a me! Ma vedi questo? Via con la gara! Falsa partenza! Il tuffo! Ti consigliamo una preparazione più profonda! In piscina fuori stagione! Dai! Dai, che ce la fai! A farti un bagnetto! La barca vela! Che passione! Attenti! Salvi! No, bagnati! Una pulizia al computer, diciamo, per farlo tornare nuovo! Fiammante! Una lievissima infiltrazione! Chiamate l'idraulico! Anzi, una ventina di idraulici! Oh, quando ti servono venti idraulici, non li trovi mai! Questo signore chiude a chiave! E scende facendo molta attenzione! Tutto bene laggiù? Tutto bene laggiù? Un drone in casa! Un drone in casa! Non mi sembra una buona idea, eh? Eh, non devo spiegarvi perché! Un film dal budget colossale! Il drone maledetto! E' finito il budget! Finito! Amilcare? Sì! Oggi sono... Rai Kame! E questo fa veramente ridere! Bravo! E allora devo portare questo osso nella mia cuccia! Ma questo non passa! E' impossibile! Mi è venuta un'idea! Esco io! E picchio l'osso! Non c'è niente da fare! Stufedente! Non lo vuole sapere! Yuhuu! Andiamo! Sì! Andiamo! Tutti insieme! Ma sì che lo troviamo! Ma lo troviamo chi? Ma come chi? Il gatto della neve! Ah! E risate! Questa è una freddura! Non so se l'hai capito perché c'è la neve! Non mi fa niente da... Eh sì! E' giunto il momento di sciogliere il ghiaccio con una romantica proposta di matrimonio! Sciolto è stato sciolto! Adesso attento a non romperlo! Fresca l'acqua! Golf! Buca! E nuca! Un'allegra combriccola sulla piscina ghiacciata! Attento! Scala ghiacciata! Occhio eh! Questo è un grande! Questo dal trampolino spacca! O dico io! Questo è forte! O questo è spacca! Dai eh! Da Marana! Sì infatti ha spaccato! Esibizione in bici! Bellissima! Una gran bella botta! Rivediamo lo stupidotto da altra angolazione! Confermo! Faccio canestro saltando la macchina! Sì! Stavolta che sono saltati i denti! Sciatore spericolato! Che fa? Lo rifà! Ma allora non solo è spericolato! Rivediamo! Questo per lo snowboard ha il chiodo fisso! Sì! Ecco! Ecco! Ma c'è pure l'infisso! Volete rivederlo? Uè! Gattone scuro! Sono qua che vuoi? Eh! C'è un nemico terribile! Non viste! Ho fatto paura pure a me ma io rimango! No no! Io me ne vado proprio! Stai qua! Guarda che gli fa! Vabbè, torno! Ti distruggo, mannaggia! Io qua non ci sono mai stato, eh! Amil Keren? Sì! Adesso ti suono un bel blues! Tu scatenati con la danza! Vai! Sì, sono pronto! Ritmo! Olè! Ci va! A me costa musica! Ma avete rotto li baglioni! Me ne vado che meglio, va! Sì, ma adesso vai col rock! A cronopatico! Riposo, eh! C'è un'altra musica! C'è un'altra musica che spacca! Bella zio! Amazza, che golosone! Buon appetito! Buon appetito! Un bel selfie in compagnia della torta! In faccia! Oh, una bella mangiata di pesce in compagnia! Che si mangia stasera? Niente! Brava piccola! Servono sempre i tovagliolini! Prima di... Cadere! Hot dog! Parkour! Grande! Grandissimo! Invece che un bagno di folla, si è fatto un bagno e basta! Eccola! Lo stinco la presa, eh! Cosa fa, ragazzo? Cosa fa? Si fa male! E basta! Acrobati metropolitani! Pardon! Acrobati contusi metropolitani! Un tuffo davvero speciale! Faccio una lega tutta in acqua, sul pontile! Sei un capocciolo! Una specie di baby Spider-Man! Vediamolo in azione! Bravo, bravo! C'hai un futuro come Spider-Man! Anzi, direi che il futuro è già finito! Ma basta, Lani! Vi faccio un quiz! Chi c'è dentro la corsa? Vi do un indizio! È un grande ballerino! Eh sì! È buone! Facili, Lani! Ho trovato l'anima gemella! Io voglio do un bacio! Questa è più pianta di me! Ho posto, Lani, Giampiero! Mi mangio la bolla? Eh sì, eh! Perché io tanto... Vai con un po' di sano sport invernale! Sci estremo! Bravo! Dai! Adesso tocca a te! Forza! Un colpo magistrale di curling! Ha rotto anche la scopa! Salto con gli sci! Snowboard! Questo genio merita il replay! Ok, su ghiaccio! Dai, dai, che segni! Oh, è andato in porta! Ma non il disco! Il giocatore! Corsa sul tappeto! Beh, c'era la gomma a piuma! Piroette in overboard! Va fatto in ambiente libero da ingombri! Wow! E da mobili! Eh? Rivediamolo! Sul triciclo alla cieca! Beh, buonanotte! Buonanotte al secchio! Sappiatelo! E' meglio cadere sul materasso... Che dal materasso! Tuffatore che vuole fare colpo! Oh, più colpo di così! Riguardiamo la sederata! Ed ora un colpo difficilissimo! Provateci voi a sbagliare così! Oh, è difficilissimo! Dai, 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 dai! Ancora... Oh, ce l'ha fatta! Fargoli in equilibrio! Immersa nei giocattoli! Ma è cosa? Il sogno di tutti i bambini! Amilcar, dai! Sali sopra! È un problema! C'è qualcosa che non va in questo gioco! Amilcar, dai! Camina! Ho capito, ma... Io sto gioco mi sfugge qualcosa, perché è proprio... Oggi è il mio compleanno! Che bella festa! Un divertimento! Tutti intorno a ballare, a cantare, a festeggiare! Viva, 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 viva! Ciao, guarda che roba, eh! Questa qua, mica è una macchina normale, come tante! E no! È una macchina della polizia! Viva, 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 viva! È certo! Guarda qua, ci sono io! La civetta! È un'auto civetta! Non so se hai capito! Ha, ha, ha! Viva, 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 viva! Eh, arriva la pallina! Io la prendo al fullo! Eh, eh, eh! Ma andate a finire! Ando sta! Marito, ma... Eh, eh, eh! Eh, cala! Che figura! Devo andare dall'oculista! Questo signore monta il suo segue con grande padronanza. Lui è chiaro che la macchina è come un puledro selvatico. Infatti, guardate, dopo un po', si imbizzarrisce! Ha, ha, ha! È così! Il segue e sente il richiamo della foresta e se ne va! Su due piedi! Anzi, su due ruote! Sei un capoccione proprio, guarda! Siamo giunti al momento dei vostri home video! Iniziamo con Federica Vandelli da Castellarano, Reggio Emilia, alle prese con una bottiglia di sfumante. Dai, ti porta bene! E passiamo ad Alessandro Luppi da Guanzate Como, che ci porta sul ghiaccio. Ma chi indica? Ah, c'è Carlotta che ha bisogno di aiuto! E adesso chi aiuterà loro? Passiamo a Miriam Valle da Stradella-Pavia con il piccolo Leo. Ma sull'altalena non si va così! Dai, riprova! Forza, Leo! Leo! Uno, due, tre! Gli piace così! Evoluzioni con Anna Donadeida Nardolli c'è! Può sicuramente migliorare! Amilcare! Un po' di croccantini, eh? Spiroccio! Un'altra prova! E ancora! Che c'è sta roba? E va bene! Tieni tutto! Ehi! Finalmente l'hai capito! Ma i miei padroni! Dovevano regalare un coniglio! Invece ci ha regalato un cane! Oh! Adesso mi tocca mangiare a me le carote! Sto sento qua deve essere una bomba per quanto è buono ma... Non riesco a cacchiapparlo? Bene! Bene! No! Niente! Non ce la faccio! Oh! Oh! Ma quello è disegnato sul muro! Ma adesso! Se trovo il rider me lo magno vivo! Oh! Però la vernice non è male! Eh! Oh! Ma che è sta balletta qua? Oh! E' una roba che si magna! Ma io non me fido! No! No! Proprio no! Io invece me fido! E buona! Buona! Quelli! Le principessi sono paratelle! Sono tutte rosa! Sono tutte belle! E le belle! Sono sempre in declinio! E c'è bene! Come sono dolci! Come sono buone! Come sono grande! Se li addormentati non avviava in più! Preppigli nello sbaglio con la testa in giù! E le principessi sono paratelle! Sono tutte rosa! Sono tutte belle! Sempre in vetrina come in giù! Come sono dolci! Come sono buone! Come sono dolci! E ora! E ora! E si ad aprire la porta! Come sono dolci! Come son dolci! Come sono dolci! Come sono dolci!